Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su Teletruria. In apertura di questa edizione parliamo del progetto di rifacimento delle fognature di Via Romana al centro di un incontro pubblico ospitato nei locali del CAS di San Marco la Sella. Siamo in diretta con Simona Santi Laurini che è per noi sul posto e alla quale do subito la linea. Simona a te. Sì Riccardo, siamo qui con il vice sindaco di Arezzo, Lucia Tanti, appena iniziata l'assemblea con i cittadini perché il Comune Nuove Acque vogliono informare bene su quello che è il progetto. 5 milioni di euro investiti per risolvere finalmente la questione annosa di Via Romana. Sostanzialmente si deve scongiurare che Via Romana vada sott'acqua. Questo è quello che spiegate in questo momento ai aretini. Sì, è un intervento importante e strategico che va ad insistere su un quartiere, su una zona della città che ha avuto momenti di grande difficoltà rispetto alla sicurezza idraulica. Quindi questo è il secondo lotto, il primo è già stato fatto, adesso inizia il secondo. Questo secondo per oltre 1 milione e 300 mila euro perché questa zona possa essere finalmente consegnata alla sicurezza di tipo idraulico. Come tutti i lavori anche questo produrrà dei momenti di difficoltà perché lavorando è evidente che si creano degli impatti nella città, ma insomma la sicurezza e il futuro sono gli elementi fondamentali che noi andiamo a mettere in cantiere in questa occasione. Tutti ricordiamo purtroppo anche l'alluvione del 2019 e serve proprio a questo, questo intervento vice sindaco. Assolutamente sì, era un impegno preso sia nel primo mandato Ghinelli che all'inizio del secondo e con i due interventi, quello già fatto e questo in via di fascimento, stiamo rispondendo ad un bisogno primario che è quello della sicurezza idraulica di questa parte della città. Allora noi Riccardo rimaniamo qui, seguiamo l'assemblea, così nei prossimi appuntamenti informativi saremo in grado di darvi ulteriori dettagli di questo progetto. A te la linea. Ringrazio dunque Simona Santi Laurini per queste informazioni più dettagliate appunto su questo incontro pubblico che è in corso. Ovviamente vi rimandiamo anche alle prossime edizioni dei nostri notiziari per ulteriori dettagli. Andiamo avanti con il nostro telegiornale con la pagina della cronaca. Droga. Arrestata un'intera famiglia, l'operazione della polizia, i tre sono stati fermati al casello A1 e sono tutti residenti nell'Aretino. Tre componenti di una famiglia che trafficava droga ad Arezzo sono stati arrestati. L'operazione ha coinvolto gli agenti della polizia di Battifolle e i colleghi della squadra mobile. In carcere sono finiti due fratelli di 33 e 37 anni residenti nell'Aretino e la moglie, trentenne di uno di loro. A destare sospetto è stato il loro atteggiamento alla guida durante il controllo. Stando a quanto ricostruito, gli agenti hanno notato una lancia Ypsilon che si è fermata prima di imboccare l'ingresso dell'A1 e ha poi invertito il senso di marcia per cercare di allontanarsi. Questa manovra è saltata subito agli occhi dei poliziotti che hanno ispezionato addosso i componenti dell'auto i due fratelli di 33 e 37 anni, trovandoli in possesso di quasi 70 grammi di cocaina riuniti in sei involucri all'interno di un borsone per la palestra. L'attività dei poliziotti non si è fermata ma si è spostata alla perquisizione domiciliare. Nella casa di uno dei fratelli, la moglie trentenne, ha mostrato un certo nervosismo. I poliziotti hanno trovato nascosti 23 mila euro in contanti, altri involucri in cielo, fanno uguali a quelli rinvenuti in auto, che hanno portato al sequestro complessivo di quasi mezzo chilo di cocaina per un valore sul mercato dello spaccio di 40 mila euro. Paura sulla E78 tra Palazzo del Pero e Leville, dove un operaio è stato investito da un'auto in transito. Ovviamente anche disagia la circolazione. Momenti di paura nella tarda mattinata lungo la E78 tra Palazzo del Pero e Leville. Un operaio di 29 anni dipendente di una ditta di manutenzione stradale incaricata di svolgere una serie di lavori è stato investito da un'auto. L'incidente è avvenuto nella galleria a Pifarino. Secondo una prima ricostruzione, il guidatore dell'auto avrebbe urtato il lavoratore, finendo poi addosso al furgone utilizzato per segnalare il restringimento di carreggiata e la presenza di uomini al lavoro. Solo per caso non ci sono state conseguenze ancora più gravi. Il ferito, così come appreso, è stato portato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale San Donato, a bordo di un'ambulanza della Croce Bianca. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Arezzo. Hanno eseguito i rilievi di leggi e hanno regolato la circolazione. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e coordinamento delle operazioni di soccorso, oltre al personale della ASLA Toscana Sud-Est. L'incidente ha bloccato la circolazione, che è poi ripresa in modo graduale, prima di tornare alla normalità. Parliamo adesso di baby gang risse per questioni di cuore o di altro accoltellamenti. Il disagio giovani le aumenta e i weekend assomigliano sempre più al Far West. Facciamo dunque il punto all'interno di questo servizio. I casi sono in continuo aumento. Doppio accoltellamento lo scorso fine settimana tra Arezzo e la Valtiberina. Ancora accoltellamento a causa di una vicenda di cuore a Sansepolcro lo scorso weekend. I protagonisti sono sempre giovanissimi, in alcuni casi minori. Le denunce che poi uno si porta dietro e di sicuro non fanno bene né alla vita né al casellario giudiziario non fermano tuttavia questa ondata di ritorno al passato con questioni che siano legate a droga, alcol amore, che si risolvono con il coltello. Secondo gli esperti questo ritorno all'uso primordiale dell'arma bianca e di conseguenza la violenza è stato fatto alzare dalla pandemia che ha amplificato i disagi degli adolescenti sempre più coinvolti in risse di gruppo e in tentativi di togliersi la vita. Presenti, secondo gli esperti, anche fenomeni di aggressività verso i genitori sempre più incapaci invece di porre un limite, anzi spesso, dicono gli esperti, accondiscendenti con i figli. In qualche caso gli episodi sono stati bollati dai genitori come cose da ragazzi. L'uso di droghe e alcol eccessivo di social con la mania di riprendere atti definiti eroici che invece sono solo violenti e la diffusione di un certo tipo di cultura musicale hanno contribuito, sempre secondo gli osservatori degli episodi di cronaca, a far aumentare il fenomeno. La prevenzione, le lezioni a scuola e la sensibilizzazione sono forse le uniche armi, anche a detta delle forze dell'ordine, che si possono utilizzare per arginare una deriva sempre più evidente. Parliamo adesso della ex Sacci. Il Tar dà ragione al proprietario accogliendo il ricorso di Marino Franceschi, imprenditore casentinese, titolare del marchio Marino Famercato, nei confronti dell'ordinanza del comune di Bibbiena che intimava di liberare con urgenza l'ex area Sacci. A dare la conferma è illegale di Franceschi, l'avvocato Alberto Rubeschi, che sottolinea come l'ordinanza del comune di Bibbiena sia adesso annullata. Il ricorso è stato discusso nell'udienza dello scorso 13 marzo, spiega Rubechi, e il Tar ha accolto i primi due motivi di ricorso e ritenuto assorbiti gli altri. Il provvedimento è stato dichiarato complessivamente irragionevole e per questo annullato. Veniamo adesso alla qualità del clima. Il Sole 24 ore analizza la situazione nelle varie province italiane. Il dato di Arezzo non è troppo brillante. Qual è la città italiana con il clima migliore? La classifica è stata elaborata dal Sole 24 ore su dati di 3B meteo e fotografa il benessere climatico in 112 capoluoghi con 10 parametri meteo relativi al periodo 2013-2023. La posizione di Arezzo in questa classifica non è molto brillante. È infatti sessantesima nel dato complessivo. Il dato migliore tra quelli riscontrati per Arezzo è quello della scarsa frequenza di eventi estremi, come per esempio i giorni totali con accumulo di pioggia. In questa classifica la provincia è ventiduesima. Mali invece per quanto riguarda le ondate di calore, dove è 86esima. Tra le città con il clima migliore, attenzione, non con le migliori condizioni ambientali, spiccano le zone costiere. Al primo posto è Bari, al secondo Imperia e al terzo Barletta Andriatrani. Per il resto oltre al capoluogo del Ponente Ligure si distingue per il miglior clima anche Livorno, sesta, unica del centro Italia tra le prime dieci. Sono partiti oggi all'ospedale San Donato di Arezzo i lavori ai gruppi frigoriferi che regolano riscaldamento e condizionatori. Un sistema più performante e moderno. I lavori termineranno a fine maggio. Ospedale San Donato di Arezzo, efficientamento energetico alle nostre spalle, un gruppo frigorifero di nuove installazioni, ingegnere giorni. Dico uno perché poi ce ne sono altri. A cosa servono? Questi impianti frigoriferi sono impianti di ultima generazione dotati di tecnologia a pompa di calore. Rispetto al normale gruppo frigorifero riescono a produrre in modo combinato energia frigorifera per raffrescare gli ambienti in estate e energia termica per fare il caldo di ambienti in inverno. Oggi sono partiti lavori importanti di efficientamento energetico per i gruppi frigorifero del San Donato. Considerate un intervento da 580 mila euro di finanziamento e già appaltato i lavori iniziano oggi. Un duplice effetto positivo. Avremo un risparmio di risorsa finanziare di 50 mila euro di minori costi energetici ogni anno e un miglior comfort per pazienti ed operatori sanitari e che per l'ospedale San Donato di Arezzo prevede altri due interventi importanti. Un impianto fotovoltaico da 500 kilowatt che anche in questo caso è già progettato, già finanziato e appaltato e i prossimi mesi cominceranno i lavori. Sta per partire il cosiddetto progetto Illumination per il San Donato che prevede di riqualificare gli impianti di illuminazione interna ed esterna con il cambio dalla vetusa tecnologia a neon all'attuale tecnologia con impianti domotici dotati di tecnica a LED. Quindi una migliore illuminazione interna ed esterna, una migliore fruibilità da parte di operatori anche in termini di sicurezza e sempre con una maggiore efficienza energetica quindi con minori costi energetici. Via Garibaldi si è liberata dal traffico delle auto per fare spazio ai banchi della Fiera dei Fiori in occasione della Festa della Santissima Annunziata ma passeggiando tra i banchi scarseggiano proprio i fiori. Con l'arrivo della primavera si rinnova l'appuntamento con la tradizionale Fiera dei Fiori in via Garibaldi, via Portabuia e via Isidoro del Lungo, traffico vietato per lasciare spazio ai banchi, circa una venticinquina agli espositori presenti con i fiori che una volta erano predominanti protagonisti ma che dobbiamo dire all'interno di questa edizione sono presenti in minoranza per lasciare maggiore spazio a banchi che vendono oggetti per la casa, abbigliamento e gastronomia. Infatti anche noi siamo rimasti un po' sconcertati, ho detto ma come siamo solo noi, però è così. Diciamo che io mi auguro che il prossimo anno ci sia un po' di pubblicità innanzitutto dalla parte dell'amministrazione che a quanto pare non ha spinto questa cosa. Dagli ambulanti presenti alla Fiera arrivano anche dei suggerimenti sull'utilizzo di alcuni spazi. È il caso del parcheggio di Piazza della Misericordia liberato dalle auto ma rimasto vuoto. La cosa che mi stupisce è che abbiamo qua una bellissima piazza che è vuota e non capisco perché non hanno organizzato in maniera un pochino più precisa di fare qualche altro evento se non vengono i fiori. Insomma a me un po' mi dispiace essere qui e vedere la piazza vuota. Vedo, sento che anche i miei clienti dicono ma perché, ma come. Vediamo se il prossimo anno organizziamo una cosa un pochino più bella diciamo. Da un punto di vista liturgico infine la festa della Santissima Annunziata che cade proprio il 25 marzo, essendo quest'anno nel periodo della Settimana Santa, verrà celebrata lunedì 8 aprile. Veniamo adesso alla pagina politica. Passano i giorni e si sta animando la campagna elettorale a Cortona. La caccia al voto sta diventando spasmodica a Cortona. Il voto è politico e nel centro etrusco come del resto a San Giovanni e Valdarno si voterà con il proporzionale e vale anche il voto disgiunto. Quindi oltre alla capacità delle liste di attrarre il consenso sarà utile e decisivo il voto che ogni singolo candidato prenderà nel segreto dell'urna. Ogni manifestazione buona per fare campagna elettorale ci sono anche momenti condivisi tra candidati come la recente fiera del vitellone alla Fratticciola. Poi sarà utile vedere le liste che appoggeranno la corsa dei singoli. Luciano Meoni, tanto per fare un esempio, ne avrà un'altra oltre futuro per Cortona e quel centro-destra per Meoni sindaco sarà foriero di ulteriori polemiche. Intanto anche Nicola Carini si prepara a ufficializzare le squadre. Ci sarà sicuramente una lista civica in suo sostegno. Mentre Andrea Vignini, oltre al campo largo con i 5 Stelle, punta molto su Cortona Civica e la sua capacità attrattiva. La Castellani intanto ha aperto il punto elettorale mentre ancora resta sotto traccia Sara Baldetti di Italia Viva. Dopo Pasqua ne sapremo di più. Tornando a Meoni non è sfuggita la polemica con il sindaco di Arezzo Ghinelli nel corso del suo intervento alla Sala Pancrazi, venerdì sera. È una vecchia storia quella della rivalità tra Arezzo e Cortona che ha toccato anche in passato il campo del centro-sinistra. I derby non ci sono dunque, solo nel calcio. In questi giorni il Sesso degli Angeli, film che Pieraccioni ha realizzato pensando a Don Giuliano Faragli che è in cima alla classifica di Netflix e proprio Pieraccioni ha inviato un messaggio a sorpresa durante la messa al parroco di Montecchio che va in pensione. Non andare in pensione. Cosa fai dopo in pensione? A Castiglion Fiorentino non ci sono così tanti lavori da andare a vedere. i pensionati, i lavori con le manine dietro la schiena a perdere tempo. Dovresti venire allora a Firenze a vivere, che c'è la tramvia, così si va insieme a guardare i lavori con le manine dietro la schiena. Ma te non sei mai stato uno da manine dietro la schiena. Te ce le hai sempre avute davanti, allargate, verso il tuo popolo a raccontare cose belle e a fare cose belle. È il messaggio che Leonardo Pieraccioni ha inviato a Don Giuliano Faragli durante la messa di sabato sera scorso che a sorpresa ha visto la presenza del sindaco e del comandante della Polizia Municipale i quali, d'accordo con Pieraccioni, hanno fatto sentire le parole dell'attore Fiorentino grande amico del parroco uscente di Montecchio Vesponi. A Don Giuliano sono andati riconoscimenti per i 31 anni da guida della comunità di Montecchio e tanti applausi. La domenica delle palme, al termine della benedizione dei rami d'ulivo e della messa, il coro di Montecchio ha voluto regalare una targa a Don Giuliano ringraziandolo per la vicinanza dimostrata in questi anni. Un sacerdote molto amato che domenica celebrerà la sua ultima messa domenicale da parroco. Una storia però, come è sottolineato da Pieraccioni, che non si fermerà. Don Giuliano infatti ha detto avrà più tempo per dedicarsi all'associazione Solidarietà in Buone Mani e al gruppo Sbandieratori perché lui, come ha detto Leonardo, non è un tipo da tenere le manine dietro la schiena. Rimani con noi, niente manine dietro la schiena, niente cantieri, ma mani belle alzate verso il cielo. Ti voglio bene, un bacio. Al via gallerie aperte nella Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Arezzo, serie di mostre sotto l'egida della Fondazione Guido d'Arezzo. La prima, inaugurata oggi, ripercorre la carriera di Sergio Lombardo. Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Arezzo per un bel progetto curato insieme alla Fondazione Guido d'Arezzo che riguarda più mostre in realtà. Sì, allora noi a tutti gli effetti come Fondazione Guido d'Arezzo siamo i coorganizzatori. Merito va a Magonza Editore e le nuove stanze. Certo sono felice perché questo è il primo progetto che parte dopo il nostro bando coorganizzazioni che è stato un bando proprio per aiutare le realtà del territorio a realizzare le loro progettualità e mi sento di dire è la prima volta che il bando in questi anni va a premiare un progetto che si occupa di arte contemporanea. Si chiama il progetto Galleria Aperta, perché? Galleria Aperta è un progetto delle nuove stanze in collaborazione con Magonza ed è curato da Alessandro Sartenesi e Marco Pierini. Questo è il primo evento che inaugura al primo piano della Galleria Comunale. Il 12 aprile ci sarà poi la mostra di Giovanni Frangi curata da Giovanni Agosti al secondo piano e poi da qui al 2 giugno tante mostre che saranno aperte al pubblico e gratuite al piano terra insieme a dei workshop e delle visite anche serali. Simone Zacchini parliamo un po' di questa mostra che adesso si apre oggi. Certo, allora Sergio Lombardo, una programmatica differenza, il titolo della mostra, è una mostra antologica su uno dei più importanti protagonisti dell'avanguardia italiana fin dagli anni 60 e il primo nucleo di opere va appunto dagli anni 60 agli anni 90 marcando tutta una serie di punti focali rispetto alla ricerca di Lombardo che è sempre stata una ricerca molto legata alla scienza, alla psicologia sperimentale e alla matematica e in chiusura del percorso di mostra una stanza che apre all'attualità quindi far vedere come dopo oltre 60 anni di ricerca un protagonista come Lombardo continua a far ricerca, a far ricerca estetica, a far ricerca artistica di grandissimo livello. Ieri ricorreva a Roma l'ottantesimo della strage delle fosse Ardeatine tra i 335 morti anche un militare aretino, Mario Magri. È sempre dura fare i conti con la storia, quella con la S maiuscola soprattutto se si parla di stragi dell'ultima guerra mondiale. Arezzo pagò un prezzo altissimo a Civitella, San Pancrazio, Valle del Loreno, Castelnuovo, Vallucciole, San Polo, San Severo, Mulinaccio, senza dimenticare Falzano e i morti della Libia. Ma c'è un'altra strage di innocenti che tocca la terra aretina visto che tra le 335 vittime delle fosse Ardeatine a Roma figura anche un aretino che da poco è stato scoperto e ricordato da queste parti. Lo si deve alla ricerca storica che a suo tempo fece il compianto Enzo Gradassi con un libro che parlava di Mario Magri. Grazie a quel lavoro Arezzo dedicò un percorso pedonale alla sua memoria anche se nella dicitura non viene menzionato che perse la vita in una delle stragi più efferate che abbiamo subito in Italia nel 44 e nel giorno dell'ottantesimo ci sembra opportuno ricordare il suo sacrificio. Aveva una divisa addosso e morì per la libertà e la dignità di un paese che in quel momento non esisteva più. Terzo appuntamento con Arezzo Nascosta è stata organizzata da Oida nella chiesa di Sant'Agnese protagonista il coro Orofonia spiegazione a cura di Liletta Fornasari. Arezzo Nascosta è una rassegna che mette in luce i luoghi nascosti di Arezzo ma è un vero peccato che questa bellissima chiesa sia nascosta. Sì, nascosta perché tra l'altro devo dire che quando uno lo chiede viene sempre generosamente aperta il problema è che tutta questa zona così importante di Arezzo così antica, cioè che proprio conserva le radici della nostra città sarebbe proprio un bene che con degli orari prestabiliti e comunicati fossero sempre aperte queste chiese questa è Sant'Agnese, San Lorenzo cioè queste antichissime chiese che stavano proprio sulla via sulla strada cardine della città antica erano quattro, ne sono rimaste due oggi ovviamente entrambe sono state oggetto ma è anche giusto che sia così di tanti interventi diversi nei secoli quindi anzi vengono a emblemare una stratificazione storica ben maggiore e sono come dire documenti proprio testimonianze di una cristianità precoce che la nostra città può vantare. Al termine della spiegazione è l'esibizione del coro Orofonia che ha eseguito brani di genere diverso dal barocco al classico al popolare fino agli U2. Siamo giunti alla conclusione di questo nostro notiziario prima dei saluti come facciamo di consueto uno sguardo alla nostra programmazione subito dopo il telegiornale potrete assistere a Newsline dentro la notizia in cui si parla di un convegno che si è tenuto a Sansepolcro relativo all'intelligenza artificiale farà seguito 9.10 informazione d'attualità oggi a cura del direttore Luigi Alberti la serata proseguirà poi con sottorete rotocalco del lunedì dedicato al calcio amaranto Barbara Perissi insieme ai suoi ospiti farà il punto sul campionato all'indomani del match interno contro la Fermana e alle 23 consueto appuntamento con in compagnia di Alessio è tutto grazie per la cortesia attenzione linea adesso alla nostra pagina sportiva